Direi che per quanto visto sul campo la vittoria sia stata meritata dai miei ragazzi, è vero che quella occasione sul calcio di rigore poteva metterci in difficoltà, poteva impensierirci ma anche oggi il tricarico ha tirato fuori un'ottima prestazione. Sono molto felice per quanto visto oggi perché avevamo bisogno di dare continuità ai risultati e avevamo bisogno di migliorare, di far crescere la prestazione già vista anche mercoledì e oggi i ragazzi hanno risposto molto bene in questa situazione, in questo percorso e sono davvero felice perché è un segnale importante, non era semplice, era la seconda partita in quattro giorni, venivamo da una lunga pausa forzata, tanti dei miei ragazzi sono stati colpiti dal Covid e ora finalmente vediamo la luce e cerchiamo e ci stiamo avvicinando a quella che poi è la normalità che mi auguro arrivi per tutti. Sapevamo benissimo che comunque ci sarebbero state tantissime partite ravvicinate, ho a disposizione una rosa ampia dove posso comunque creare delle rotazioni e impiegare diversi giocatori per ogni partita e questo è un notevole vantaggio per me. Chiaro è che comunque ci si ritrova sempre con qualcuno che poi si trova a giocare tre partite di fila in pochi giorni. detto ciò i ragazzi stanno riprendendo il gusto di giocare, stanno riprendendo il gusto di voler crescere.